Ueeh, non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Oeeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, novità ufficiali direttamente nella sezione notizie di Epic Games per quanto riguarda le votazioni per il negozio oggetti. Leggiamo insieme quello che ci dicono. Ehi là, community di Fortnite, stiamo testando una nuova funzione che vi permetterà di votare quale oggetto far tornare in uno slot del negozio oggetti. La scelta della community, quindi nuova sezione nel negozio. Quando questa funzione sarà disponibile, inizieranno i confronti diretti tra i contenuti del negozio oggetti e potrete votare per l'oggetto da far tornare alla ribalta. Come funziona? Per ogni evento di scelta della community, potete votare una volta al giorno a favore dell'oggetto che volete che ritorni. Il voto del giorno viene bloccato una volta confermata la scelta, ma potete votare per altri oggetti nei giorni seguenti per tutta la durata dell'evento. Ricordate di accedere ogni giorno per avere un nuovo voto a disposizione e mostrare il vostro sostegno. Alla fine del conto alla rovescia, di scelte della community, che è il nome dell'evento, verranno conteggiati i voti di tutti i giocatori e l'oggetto vincitore sarà disponibile nel negozio oggetti per un periodo limitato. La prima scelta della community inizierà il cambio di inventario del negozio di oggetti nella patch 10.30. Passate da queste parti il 12 settembre dalle 2, ora italiana, per il primo voto. Insomma, ragazzi, finalmente arriva lo shop a votazione. Non vedo l'ora di vederli insieme a voi. Spero che questo video di informazione vi sia piaciuto. Un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi rimaniamo in live. Ciao! Ciao!